E che succede? Che fa la figura del fesso e che lei si dice, si chiede, ho sbagliato, scusate, andiamo avanti, si chiede, ma cosa facciamo, la rifacciamo da capo? Subito? Va bene. Non te l'ha rotto, ve lo avete proprio un click strano. Sì, non ti preoccupare. Vai a sinistra adesso, no? Devi andare a sinistra. Di più, di... No, vero. Guardami. Sto finalmente per dirle che cosa provo per lei. Che è cascato? Ah, giusto, giusto, scusa, allora ci sono le facciole lunghe. Conosci? Mokari? Ho sbagliato, scusa, dove vuoi provarlo? Aspetta. Ok. Ah, ho capito. Ci so. Ci sei? Ah, no, ma era la base del ringlet che mi faceva larga. Ti faceva larga? Mi guarda, guarda. Vedi? Io mi vedevo quasi, ricordo, ma che cazzo è? Ha venduto un bambino. Ha venduto il bambino. Ma chi è? No, ho mosso la bocca, scusami. Ti è diventata aggressiva? No! È un'editazione. No, ma chi è? Chi è Jennifer? Chi è Jennifer? Nessuno. Ale, ti scasso di botte. Cazzo! Non, 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 non.